Il principe William è determinato a scoprire come esattamente sua madre, la principessa del Galles, sia stata indotta a rilasciare un'intervista a Martin Bashir su Panorama nel 1995, afferma una fonte reale il principe William è solo all'inizio e continuerà fino a quando non verrà a conoscenza di come sua madre Diana è stata ingannata da Martin Bashir per l'intervista alla BBC Panorama, ha detto una fonte reale. E' emerso che Bashir ha ingannato la principessa del Galles incoraggiandola a parlare nella sua intervista bomba nel 1995 in cui ha parlato della rottura del suo matrimonio con Charles. Ma una fonte del Daily Mail ritiene che William stia cercando molte più risposte dopo il rapporto di Dyson su come è stata organizzata l'intervista a Panorama. Dissero. Pensa che questo potrebbe essere solo l'inizio della scoperta della verità. Lord Dyson ha concluso che Bashir aveva usato un comportamento ingannevole per ottenere l'intervista con Diana, mostrando i suoi falsi estratti conto bancari per suggerire che il personale della famiglia reale veniva pagato per fornire informazioni alla stampa. William ha criticato la BBC per aver contribuito alla paura, paranoia e isolamento di Diana e ha contribuito al deterioramento della relazione dei suoi genitori. Ma mentre ha attaccato l'emittente nazionale in seguito al rapporto Dyson, non si ritiene che stia cercando una battaglia e continuerà invece a lavorare e collaborare con esso. La BBC rimane l'emittente ufficiale per il suo premio ambientale Earthshot questo autunno. Invece la sua denuncia si concentra specificamente sul rapporto e sui suoi risultati e si afferma che egli ritiene che ci sia di più negli eventi di quanto non si è emerso finora. Punto. La fonte di mail ha detto. L'indagine stava esaminando in modo molto specifico il periodo precedente l'intervista. Come è stata ottenuta e cosa ha fatto la BBC. Ma ci sono molte prove al riguardo. William è apparentemente concentrato sui suoi doveri ufficiali ma allo stesso tempo è determinato a sradicare ciò che è accaduto durante l'intervista a Panorama. Grazie a tutti.